www.radiofreestation.com www.radiofreestation.com La prima web radio dedicata agli italiani nel mondo www.radiofreestation.com 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 erano per fare la voce grandiosa bellissima calza forte potente oggi ecco noi sentite anche la sua voce parlate perché in genere voi l'ascoltate ma non sono complimenti così così infatti giusto per farvi sono complimenti effettivi perché comunque c'è che hai una bella voce si deve dire proprio hai detto cosa fai con la tua voce come fai a mantenere la tua voce che cure hai in particolare che strategia hai per la tua voce di cantante anche quando fa freddo uso molto la sciarpa perché comunque al caldo bisogna evitare gli spazi di temperatura e poi bisogna dormire bene così si mantiene la bella voce la voce rimane diciamo rilassata le corde vocali si rilassano la voce rimane calza praticamente il nemico numero uno della bella voce è lo spazio di temperatura le spazi di temperatura creano problemi per questo bisogna insomma non prendere né troppo freddo né troppo caldo non lozzare in inverno tenere delle sciarpe che ci vengono al caldo la gola tutto qui per mantenere una bella voce bisogna essere riposati e non sopire degli spazi di temperatura ho capito bene cosa? cioè bisogna essere sposati ho capito bene no bisogna no ho detto non bisogna avere degli spazi di temperatura non bisogna subire spazi prezzo caldo caldo prezzo l'ultima frase che hai detto ha detto bisogna essere sposati ho capito bene no questo è diciamo potrebbe essere qualcosa in più ma non è necessario quindi non è necessario non ho sentito questa cosa forse hai detto qualche altra cosa che è sembrato insomma un po' non hai sentito quello che ho detto ho fatto vabbè ho defuso ok invece ci dici se usi non so qualche citana qualche tipo di te qualche cosa particolare che ti tenga calda la voce che te la curi ho avuto dei prodotti in particolare bisogna mantenersi bene in forma dormire bene questo vabbè bisogna un po' aver cura di sì un po' come la canzone di Stefano a Monteforce esatto mi voglio sentirti bene per cantare bene certo insomma allora si è d'accordo le emozioni i sentimenti e le ragioni tutto dentro la voce ecco questo è sicuramente beh io direi di andare subito ad ascoltare una canzone e sentire un po' la voce di Cetti Moscarella attraverso questa sua cover che si intitola appunto Acqua e Sale ok buon ascolto a tutti Cetti Moscarella Acqua e Sale su Radio Free Station io direi che questi prevedibili e sempre uguali Sono fatti tutti così, gli omini e l'amore Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi Perché noi siamo poi cattivi Tu non sei niente male Parli bene e mi sorprendi quando tiri forte La tua moto dal motore che sento toccato E va bene e guidi tu che sei brava più di me E io tanto che sia amore Ma io sono con te ogni giorno Perché di te ho bisogno Non voglio di più acqua e sale Mi fai bene Con un colpo mi trattieni il bicchiere Ma fai male Puoi godere Se mi vedi in un angolo Ora è l'ora e l'ora e l'ora e viene Come un lago Che se piove un po' di pene è uno stagno Vorrei dire Non conviene Sono io a pagare amore tutte le pene Vedi divertisti fa bene Sento che mi rido dentro e questo non mi conviene C'è qualcosa che non va Ma non so dirti cosa E la tua moto che sta giù Che vorrei guidare io Ho meglio averti qui vicino a me Ma io sono con te ogni giorno Perché di te ho bisogno Non voglio di più acqua e sale Mi fai bene Mi fai bene Con un colpo mi trattieni il bicchiere Ma fai male Puoi godere Se mi vedi in un angolo Ora e d'ore, ora e viene come un lago che se piove un po' di meno è uno stagno Vorrei dire, non contiene, sono io a pagare amore tutte le fede Grazie a tutti Grazie a tutti C'è anche Mistilla che dice brava nella nostra chatina Grazie Mistilla, un bacio, grazie mille Bene bene, noi qua ritorniamo in diretta e bene, siamo con Cetti Moscarella, una bellissima voce, complimenti Cetti Grazie caro Nico, grazie a tutti, grazie a Mistilla, grazie a lei che è stata così finita con me e mi fa piacere che ti piaccia la mia musica Eh sì, effettivamente hai una bella voce dai Cetti Stefano ne sa qualcosa Beh io ho ammirato dal primo momento perché l'ho sentita che eravamo qua a casa mia, abbiamo chiamato, siamo divertiti, abbiamo chiacchierato, abbiamo sonato insieme pure a distanza, abbiamo cantato così una cosa improvvisata però effettivamente la voce di Cetti Moscarella è una voce pregnante, ecco pregnante, significativa, profonda E noi dobbiamo scoprire sempre come fanno questi artisti a mantenersi in forma, a mantenere in forma la sua voce, ecco in questo periodo Cetti Moscarella ci ha consigliato di tenere la sciarpa Bisogna stare assenti al frizzo, effettivamente il frizzo è un problema per le corde vocali e quindi usare la sciarpa E poi dicere pure che bisogna essere riposati soprattutto, non tesi ma riposati E poi aggiungerei, non so se siete d'accordo, non bisogna essere ritati, non è che ti metti a cantare dopo che hai litigato con un'amica o con un amico o qualche automotilista voglio dire E poi ti metti a cantare perché le corde vocali sono effettate, sono prese da altro, non dalla musica D'entra nel discorso di essere riposati, se sei arrabbiato potresti aver forzato le corde vocali e quindi se ne scende la voce No, devi essere riposati e tranquilli Quindi è anche un problema di rilassamento, insomma, che è più rilassato, magari c'è una voce più limpida Si respira meglio quando si è riposati e anche rilassati Quando si è rilassati si respira meglio e quindi si lavora meglio con la voce, si modula meglio E quindi bisogna fare un po' di meditazione, rilassamento, insomma, quando più si è rilassati meglio si canta, giusto? Bisogna essere felici per essere rilassati Bisogna essere? Felici Felici Ah, sì, sì, ecco, si ha aperto una porta che noi esploriamo di volta in volta nelle nostre cose Non è realizzata, è rilassata, non è arrabbiata, non si arrabbia con tutti Ma è chiaro che è una questione di essere contenti Quindi quando più si è felice, più si canta meglio, insomma Sì, sì, la mia preghia, l'ho coniato adesso Bene, allora Stefano, cerca di trovare la tua felicità, così diventerai un cantatore famoso Ah, io non lo so se attiro a diventare famoso Perché poi, insomma, molta gente famosa da riblocca e non lo so E quanto è successo Ma che Stefano canta, se lo sbaglio Certo, Stefano scrive pure canzoni, è un cantautore Stefano Ah, complimenti Ah, ma è un modo molto modesto e umile, ecco Sono uno dei tanti Che cosa parlano nei due testi, Stefano? Uh, parlano di energia, parlano di ricostar bene Parlano di storie inverosimili Parlano anche, diciamo, di filosofia alcune Parlano altre improvvisazioni fatte per amiche, per amici Nate lì per lì, quasi per gioco E poi trascritte, musicate Insomma, non sono diffuse come si dovrebbe in questo caso Ma la trasmissione non è centrata su di me La trasmissione è centrata su di te E per cui è meglio che parliamo di questo brimido caldo Che può venire fuori, no? Proprio perché si è felice Ecco, c'è Timo Schadella che ha avuto un'altra finestra Nel mondo dell'uso della propria voce Cioè quello di essere felice Prepararsi a essere felice E poi la cosa viene da te Ascoltiamoci di Cetti Moscherella a brimido caldo, dico Bene, allora, sì Ascoltiamo, Cetti, questo tuo altro pezzo Su questo altro tuo cofer Appunto, intitolato a brimido caldo Ok? Grazie Allora, buon ascoltio a tutti Cetti Moscherella a brimido caldo Su Radio Free Station Attraversata da un brimido caldo Tra sogni folli più grandi di me Mi vendo mille emozioni In contrasto riparto da te Tra mille notte di vita raccolte E gli orizzonti che non vedo più Confusamente tra immagini stanche Riaffiori anche tu Sai, ti penso tanto Sai, ti sento tanto Nel dir Ti ho aspettato tanto Sai, ti sento tanto Viaggia Viaggia Lamento nei ricordi miei Viaggia Avontale la nostalgia di te Resta La dolce tenerezza Che lascia Lascia Il tanto che si ferma in te A chi Negli orizzonti e dei tramonti che vorrei Ma lì Si stringono su cuori stanchi e fragili Tempo Che l'orizzonti che ha una fotografia E allora resta Il vuoto dentro In quelle neppie disparse dal vento Tra i labirinti di cristalli blu Appare il viso Di chi se ne è andato E non torna più Sai, ti penso tanto Sai, ti sento tanto Viaggia Lamento nei ricordi miei Viaggia 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 Avontale la nostalgia di te Su me La luce di un diamante Passo te Resta per sempre Per sempre dentro agli occhi Qui Negli orizzonti e dei tramonti che vorrei Tempo Tempo Che non vi voglia una fotografia Da sempre in storie Di gente uguale a noi Nella O è così Ma è così E' così E' così Cetti? Ciao a tutti ancora. Complimenti, complimenti, una bellissima voce Cetti. Ti ringrazio amico, sei gentissimo. Dovete sapere caro italiano ascoltatore che Cetti Moscharella è un architetto, è un architetto che a un certo punto ha preso una decisione di diventare cantante. Vogliamo sapere un po' come è stato questo cambiamento per te effetti? Diciamo che già dagli anni dell'università io avevo il mio gruppo con il quale andavo nei locali a cantare. Ne sono divertita molto, insomma, durante gli anni dell'università siamo andati in giro a portare la nostra musica nei locali, in un caso soprattutto. E quindi da lì, insomma, le due cose sono andate di pari passo, la musica in architettura. E poi diciamo che la passione per la musica è stata, diciamo, più forte ancora rispetto alla passione e l'amore per l'architettura. Quindi, diciamo che la musica ce l'è nel sangue, ecco. E nel DNA, insomma? Familiarmente, avevi casa artisti, avevi cantanti, è un modello di riferimento familiare. Sì, in pratica nella mia famiglia ci sono stati cantanti, artisti musici. Mio padre aveva il suo gruppo e c'era ancora, eh. insomma, quando ero giovane aveva un gruppo che era confidito dai suoi fratelli e altri amici. E ancora oggi, ancora oggi, il mio padre è un gruppo con cui va a cantare due volte a settimana. hanno la loro sala dove si suona un gruppo. Quindi è anche una questione quasi familiare, sì. Mio stino ha fatto piano tarro, ha fatto piano tarro ancora. Quindi, insomma, è un po' un fatto di famiglia la musica. Sei immersa proprio nel mondo musicale, già da trincola, sei stata immersa nel mondo musicale, diviene naturale per questo. Sì, sì. Senti, progetti attuali? I progetti attuali sono quelli di costituire un gruppo che in pratica sta partendo in questi giorni. e stiamo costruendo un refettorio da portare ai locali. Sono dei ragazzi, insomma, sempre del nostro paese, di Turidia Greco, e andiamo avanti per portare questo progetto musicale, spero, presto ai locali. Sì. 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 Dunque state facendo le cosiddette prove? Cosa? State facendo le prove con questo gruppo? Sì, stiamo iniziando, sì, sì. Ma per qualche giorno stiamo iniziando. Bene, bene, bene. Senti, quali sono i tuoi sogni mai sognati? Sì. I miei sogni mai sognati, veramente, quello di andare a Sanremo. Lo sogniamo tutti a tanti, credo. E non l'hai mai sognato il tuo sogno di essere su palco lì a Sanremo? Come sogno proprio vero, fatto di notte, durante la Pernichella. Senti? Senti? Senti, ci sei? Eh, no, no, sento più, senti. Vabbè. Senti? Ecco. Andiamo con l'altra canzone, poi dopo se la riprendiamo la valutiamo. Bene, allora noi andiamo con la sua prossima canzone. C'è Timo Scarella in questa bellissima canzone che si intitola Your Song. Buon ascolto a tutti. Buon ascolto a tutti. Grazie per la visione 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 Niko Caputo Show Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti